Yo homies, benvenuti a un nuovo gioco indie horror, si chiama ILOFOBIA conosciuta come la xilofobia, illofobia o dendrofobia che dè la definizione psicologica di dire la paura dei boschi o degli alberi questo vuol dire se sei ilodofobico hai paura dei boschi e degli alberi dove so queste cose? è chiaro, ho studiato medicina, sono laureato in psicologia, ho studiato un po' di greco e un po' di wikipedia eh sì questo comunque vi racconto di questo gioco che io non so un bel niente, l'ho visto gironzolare per internet e ho detto vabbè sembra interessante perché cavolo non provarlo? ho messo già qualche opzione, si così non perdo tempo il download come sempre lo trovate lì sotto e io direi di iniziare io penso che questa cosa che vi ho raccontato dell'eufobia serve molto a capire certe io ho un studente di PhD, collettando dei dati in aeroporto e io penso che questo cosa che vi ho raccontato dell'eufobia serve molto a capire certe sono davvero in un aereo oh shit What the f**k? Ma... Ma sempre nei boschi mi devo trovare O forest, è quello che è Ma può dire che questi creatori di questi giochi sono Fettish dei boschi, cavolo? Ogni volta S**t, siamo precipitati What the f**k? Sì, sì Vai a volare con le agenzie low cost Specialmente se si chiama precipita Vai a ascoltare a Peppino, maledetto Ho raccolto davvero una nota? A che cavolo mi serve sta nota? Come? Ah! What? Trova tre orb e liberati Cosa c'è qua sotto? Ma cavolo c'è scritto? Riesco a malapena le... Scusa, stavo leggendo quel f**king numero che è lì sotto Me lo fa... Vabbè, non riesco a leggerlo Oh, guarda... Oh, yeah Almeno c'è una pila Ogni volta le solite cose No, questo rumore non era... What the f**k? Oh, oh s**t! Inizia a... Oh, f**k off! Oh, f**k off! Lasciami! Voglio, voglio, voglio... Lasciami, lasciami, lasciami! Ok, questa è la hilofobia O xilofobia O dendrofobia O scetofobia Che cavolo è? No, a me mi sta avvenendo la caga Sotofobia, cavolo, qua! Io vorrei vedere quello che ho trovato Per favore, mi fai vedere quello che ho trovato Cosa? Un GPS? No! Voglio vedere il GPS! No! Voglio vedere il GPS! GPS? Sto schiacciando la R? E che cavolo fa questo GPS? Sento cose Sento cose Mi serve per... Va bene Che cavolo Cosa c'è lì? Oh! Un palloncino? Oh no, è un orb! E vai, una sfera del drago! What the f**k? AHHHHH! 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 S***! Ma dove cavolo è il Goku Quando mi serve? Però mi dobbiamo mettere qua Cercare le sferere del drago E usare anche il... Il cerca sfere Qua come si chiama? Il radar maled... Oh s***! Mi son cagato! Ed è solo fuoco! Sto schiacciando il... No! Qua è dove è iniziato tutto? Maledizione! Ok! 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 Tranquillo! 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 Oh! Orb location 1 214... 249? 214... Non son bravo a leggere... Con le coordinazioni! Ok! 214... Oh s***! 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 Omis vi saluto, è stato uno spavento troppo forte, riprovo un'altra volta, ciao Omis, spero che vi è piaciuto come vi è piaciuto a me, un commento e un like, ciao. Grazie a tutti.